campagna e tessitura erano quei due lì tanti facevano il turno in tessitura mare dalle 5 all'una e dopo venivano a casa mangiano in fretta e andavano perché c'era l'erba tagliare c'era l'etame da portare via quando ero ragazzo io c'erano i telai a mano che facevano le coperte quelli con dentro tutti i disegni da mettere sopra al letto così e c'erano quei telai lì a mano dove non funzionare sia tutto tutto a mano e ma non erano tanto altro i metri tenevano via tanto così di spazio e dopo gradatamente finita la guerra quello che iniziava avere qualche soldo sostituiva quello a mano con quello a meccanica cioè elettrico la cementeria ha iniziato mi sembra del 50 perché lì era tutto prato tutto è finita la guerra sopra anche bucciato l'hanno raddoppiato ormai è pieno di case lì dove abito io su c'è il belvedere lo chiamano il belvedere perché è un po altro lì c'erano tre case quando sono un bambino io e quando ero giovane c'erano tre case tre adesso che non sarà una trentena insomma io e me pochì pulò subito nel 61 come direttore della cementeria di cassago ho fatto subito molta amicizia col parroco anche col signor motta che era il sindaco andavamo abbastanza d'accordo andavamo il paese era ancora proprio agli aspetti agricoli l'illuminazione non c'era c'era una lampadina al comune è una lampadina forse su all'incrocio dove c'è la madonnina su in alto i pavimenti erano tutti inciottolato e la gente viveva ancora in buona parte ancora d'agricoltura non molto perché ormai era diventato un paese molto industriale perché fra cementeria chimica pietro motta e poi c'erano molti artigiani gli addui colombo parolini c'erano altri artigiani per cui c'era un occupazione enorme venivano da tutti i paesi venivano addirittura da sirtori veniva giù gli operai ci meravigliamo adesso che ci sia stata così tanta decadenza di queste ditte la cementeria aveva loro un 250 dipendenti più qualcuno esterno quindi si può contare che lavorava dentro circa 300 persone lavoravano poi era era ancora molto sporchevole quando sono arrivato a volte facevo fermare il mulino perché avveniva tanta polvere che che copriva la strada allora facevo fermare l'impianto perché c'era un momento a luna che tirava un vento che la portava proprio sulla strada dopo abbiamo cambiato tutti gli impianti di depolverizzazione abbiamo messo tutti quelli nuovi e allora la polvere praticamente è sparita completamente polvere anche molto il rumore perché abbiamo curato anche la parte rumorosa specialmente i mulini abbiamo isolato tutte le facciate dei mulini in modo che non uscisse il rumore tanti venivano anche da fuori perché ti ho detto che allora a bulciago non bastava il paese per fare i lavoratori che se fai conto che erano 250 da noi più di 200 le aveva la sita poi c'era la pietro c'era il motta solo le grandi queste qui poi c'erano tanti piccoli perché c'erano tante famiglie che avevano i telai cioè i telai scartati dalla dalle industrie che prendevano quelli più moderni li cedevano i loro operai a casa e questi lavoravano a casa quindi la tessitura è sempre stata presente piccola che poi qualcuno di cazzaniga secondo gli anni sessanta arriva la cimenteria gli anni sessanta e comincia la sita abit fratelli cazzaniga con la sita per dire che 40 50 60 operai sto parlando che quando si comincia invece di due settanta era la chimica altra vita con una certa capienza di operai cioè diventa un paese di operai non più di con piccoli contadini gli anni sessanta da una realtà che era nata contadina perché il fatto del del grano turco io mi ricordo che ai tempi andavamo con carletto che era il papà di di un amico andavamo a fare il fieno con il carrettino ok quindi il cavallo noi piccolini ci caricava sul carretto e ci portava fuori nei campi dove andavamo a fare appunto a dare una mano fare il fieno che poi noi facciamo ben poco però era un momento comunque anche quello di divertimento d'estate chiaramente e dopo alla sera ci si fermava si mettevano le patate a bollire si facevano le patate con il sale si mangia cioè sembrava veramente una festa chiamiamola paesana da questa cultura prettamente contadina con la nascita di queste fabbriche già la mentalità comunque cambiava quindi da una mentalità contadina si è passati a una mentalità artigianale artigiano industriale diciamo così con l'avvento delle persone dal fuori da fuori e chiaramente questo ha portato una mentalità completamente diversa non so dire se meglio o peggio sicuramente questo è stato e questo è probabilmente il progresso e questo è probabilmente il progresso